Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare su strade e autostrade della nostra regione. Per il traffico ferroviario informiamo che da domani lunedì 22 gennaio sulla Faentina in risposta alle esigenze segnalate da Pendolari e della Penistrazione sarà effettuata la corsa bus in partenza da Faenza alle 18.40 con arrivo a Marradi alle 19.35. Relativamente al trasporto pubblico locale per la giornata di mercoledì 24 è stato indetto uno sciopero di 24 ore che potrebbe interessare gli autobus di Autolinea Toscana e la tramvia di Firenze. Relativamente agli autobus di Autolinea Toscana il servizio sarà garantito tra le 4.15 e le 8.14, tra le 12.30 e le 14.29. Le fasce di garanzia della tramvia di Firenze saranno tra le 6, le 9.30 e tra le 17 e le 20. Aversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città meropolitana in Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!